com'è stasera il billionaire? poca gente! non so chi c'è stasera? c'è nessuno! stasera sul palco saremo io e lui e Nathan farà anche delle mosse di breakdance annunciato giusto? speriamo che non mi rompa niente! ho trovato un pacchetto di sigarette che culo direte no? adesso le vado ad aprire aspetta che è ancora chiuso ecco adesso dovrei aprirle così magari le regalo a qualcuno fantastico! ho trovato il modo di aprirle ecco vabbè così vanno bene vedrete ma Luis perché l'hai fatto? perché ho letto un articolo di uno studio recente che attesta che le sigarette fanno male ai polmoni e causano morte e quindi ho deciso di liberare il pianeta da un pacchetto extra grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti!